Giaccherini e Pellè sono gli eroi della notte di Lione. 2-0 contro il Belgio favorito e l'Italia è prima nel girone. Siamo un grande gruppo ma restiamo coi piedi per terra e questo il grido del guerriero Antonio Conte. Senza stelle ma con tanto cuore e corsa l'Italia ha eroi a sorpresa. Uno è Emanuele Giaccherini rientrato al Sunderland e oggetto del desiderio di tante di A. Intanto su Pellè c'è forte Leverton. Finisce 1-1 l'altra gara del girone azzurro tra Irlanda e Svezia. Uno spento Ibrahimovic non incide e ora attende la sfida contro l'Italia. Per il futuro invece di Ibra si avvicina intanto il Manchester United di José Mourinho. Buonasera e ben ritrovati per una nuova edizione del TMV News. È oggi il day after del super esordio della nazionale di Antonio Conte ad Euro 2016. Vittoria per 2-0 degli Azzurri contro il favorito, almeno sulla carta belgio di Vilmoz, grazie alle reti di Giaccherini e Graziano Pellè una prova veramente convincente, quella degli Azzurri del CT Antonio Conte che hanno convinto sotto tutti gli aspetti. Parleremo di questo oggi con Simone Lorini. Buonasera Simone. Ciao, buonasera. E con Ivan Cardia. Buonasera Ivan. Buonasera, buonasera a tutti. Simone, allora non ci aspettavamo un'Italia così, una prestazione così convincente da parte degli Azzurri che hanno avuto la meglio su un belgio che almeno sulla carta sembrava dover essere favorito e sembrava molto superiore agli Azzurri di Conte. Sì, di sicuro la prestazione dell'Italia è stata in attesa, un'attesa comunque positiva. Diciamo che il ranking che ci condannava la vigilia della partita non si è visto assolutamente in campo, dove l'Italia è stata molto accorta, molto organizzata, attenta in difesa ma comunque pericolosa anche in attacco, tanto che Courtois, il portiere dei Belgi, è stato comunque uno dei migliori in campo, ha fatto almeno due parate decisive, una su Pellè, una su Immobile. Naturalmente c'è il grandissimo gol di Giaccherini da elogiare dopo uno stop eccezionale, il destro sul secondo palo che ha portato avanti i nostri Azzurri. Ecco Ivan, quanta mano di Antonio Conte c'è nell'Italia vista ieri? Cioè la differenza tra i singoli è nota, basta vedere che il giocatore del Belgio che costa meno a livello di mercato, si parla di 20 milioni di euro, quello che costa meno. L'Italia insomma ne abbiamo parlato… Quello che costa di più non costa 25, verosimilmente. Beh, perfetto. E quindi c'è tanta differenza tra i due allenatori, Vilmoz da una parte e Conte dall'altra. Tra i due allenatori c'è un divario enorme, secondo me Conte ieri ha surclassato Vilmoz dal punto di vista tattico, dal punto di vista dell'organizzazione, dell'intensità di gioco da qualsiasi punto di vista, anche delle scelte perché poi ha avuto ragione nell'infoltire il centrocampo magari a dispetto dell'attacco, ha avuto ragione su tutti i fronti Conte, peraltro proprio parlando del gol di Giaccherini di cui parlava Simone, io poi dopo la partita mi sono rivisto un highlights di una partita del Bari di qualche anno fa, lancio lungo di Bonucci, Barreto stoppa di petto e tira, un'azione praticamente identica a quella del gol di Giaccherini. L'Italia è davvero l'Italia di Conte, ricorda molto sia il suo Bari che pure giocava con un modulo un po' diverso, sia la sua prima Juventus, c'è tanto carattere, ci sono quei movimenti, quella squadra che sembra un elastico quando va avanti e quando va indietro, molto corta, grande intensità, la mano di Conte si vede nettissima e direi per fortuna perché è lui il vero fuoriclasse di questa nazionale. Ecco, l'Italia con la vittoria, complice anche il pareggio tra Irlanda e Svezia nella prima partita del gruppo E di Euro 2016 e adesso prima nel girone, ma andiamo adesso dal nostro inviato a Montpellier, Andrea Losapio, che ci fa una previsione su quello che sarà il cammino dell'Italia e ci dice le ultime anche sull'infortunio di Graziano Pellè. Ben ritrovati da Montpellier, sono in place della Comedie, dietro di me c'è l'Opera nel giorno immediatamente successivo alla sfida contro il Belgio, vinta dagli azzurri per 2-0 con gol di Pellè e Giaccherini. Montpellier cita scelta per il ritiro azzurro, a metà tra Lione, appunto la città di ieri e quella di venerdì prossimo, Tolosa per la sfida contro Zlatan Ibrahimovic. Una partita molto importante quella con la Svezia perché potrebbe chiudere il discorso qualificazione e non solo, anche quello per il primo posto per poi andare a giocare a Saint-Denis il 27 di giugno contro la seconda classificata del gruppo F. Oggi c'è stato allenamento, Pellè ha riportato una piccola frattura al Mignolo durante la partita di ieri, non dovrebbero esserci problemi per la sua presenza nella prossima partita, però è chiaro che sarà valutato nel corso dei giorni. Domani ci sarà conferenza stampa, mentre stasera Enrico Ruggeri canterà per gli azzurri. Quindi da Montpellier per ora è tutto, linea a voi. L'Italia che quindi si è allenata subito oggi dopo la grande partita di ieri contro il Belgio, andiamo adesso a parlare Simone di quelli che sono stati i protagonisti. Allora uno su tutti lo ha nominato prima Ivan, è stato senza dubbio Bonucci, forse il migliore in campo tra i 22 e neanche nell'11 azzurro. Allora a me è piaciuto tantissimo Candreva, l'ho detto anche prima in redazione, Candreva secondo me è stato il protagonista assoluto della partita, ha fatto qualche errore naturalmente in fase di possesso palla, ma a livello tattico è stato fondamentale. Bonucci è stato un altro grandissimo protagonista, così come Giaccherini, anche lui qualche errore tecnico ma tatticamente fondamentale. Non dimentichiamoci Pellè naturalmente che ha fatto il secondo gol a tempo praticamente scaduto, ma era molto vicino a farne un altro paio, quindi le notizie che ci ha dato Andrea da Montpellier sono molto importanti riguardo la sua salute. Parlando invece dell'attacco, si è parlato tanto dell'attacco dell'Italia, Pellè sicuramente meglio di Eder, però anche Eder un po' di lavoro sporco lo ha fatto. Eder ha fatto molto lavoro sporco, la cosa migliore probabilmente è quel cartellino giallo poco prima di uscire quando ha fermato una ripartenza del Belgio. A me è piaciuto molto Immobile dal suo ingresso in campo, secondo me ha portato dinamismo, pericolosità, velocità, cosa che comunque dal punto di vista offensivo Eder non era riuscito a garantire. Considerato che abbiamo già affrontato la più forte del girone sulla carta, che era il Belgio, magari nelle prossime due partite Antonio Conte potrebbe provare a proporre qualcosina di più offensivo. Eder lavora tanto in fase difensiva, ma in fase realizzativa il suo 2016 finora è stato da incubo, è inutile girarci attorno, perché all'Inter ha ampiamente deluso le aspettative, ieri le ha rispettate nel senso che nessuno si aspettava granché da Eder, se non appunto qualche recupero molto, comunque molto importante, perché su questo c'è da essere chiari. Quindi io mi aspetto che magari nelle prossime due gare possa arrivare un'altra occasione forse dal primo minuto per Immobile o anche per Zaza, che nel ritiro e nel fine di stagione sembrava oggettivamente il più in forma del reparto offensivo azzurro. Ecco Simone, ma cosa ci dobbiamo aspettare dall'Italia nella partita di venerdì? Ricordiamolo, alle 15 a Tolosa contro la Svezia di Zlatan Ibrahimovic. Continuerà Conte al 99,9% con il suo 3-5-2 senza dubbio. Ci dobbiamo aspettare qualche cambio? Oppure secondo te Conte vuole blindare la qualificazione magari mettendo in campo gli stessi 11 messi ieri in campo dal primo minuto contro il Belgio oppure farà qualche cambio anche per non spompare qualche giocatore? No, io credo che qualche cambio possa avvenire. Tra l'altro i nomi che diceva Ivan, e aggiungere anche Sharawi, che ha fatto un 2016 straordinario con la Roma, io credo possa essere un protagonista di questo europeo. Ieri è stato 90 minuti in panchina, ma non dimentichiamoci di quello che ha fatto con la maglia della Roma, sulla fascia sinistra al posto di Darmian può essere un'alternativa importante e più offensiva rispetto alla posizione dell'ex Torino e ora al Manchester United. Ecco, ma pensi che mettendo magari un uomo più offensivo a sinistra, per quel che riguarda la fascia destra, magari ci rimetterebbe il posto anche Candreva per continuare con questo gioco offensivo-difensivo sulle due fasce? Ma io credo di no, perché c'è la posizione di Parolo e Giaccherini che è fondamentale. Quando Darmian e Candreva ieri, o magari Isharawi e Candreva contro la Svezia, avanzano, loro, i centrocampisti, Giaccherini e Parolo, naturalmente con De Rossi, arretrano, quindi coprono le avanzate dei compagni. Ti faccio altri due nomi, Insigne e Bernardeschi, che ne abbiamo parlato anche nelle edizioni del TMV News in passato, che forse sono i due uomini più di qualità in questa nazionale. Ci sarà spazio per loro oppure magari li vedremo più avanti? Se lo dovranno guadagnare, se lo dovranno sudare, Insigne penso di sì, perché in avanti è forse l'unico giocatore di qualità vera, nel senso che gli altri hanno i centimetri, hanno magari la velocità, lui ha il piede che i compagni non hanno. Bernardeschi magari nella terza partita, se l'Italia dovesse vincere contro la Svezia e quindi essere virtualmente certa, quantomeno del secondo posto, ma con ottima possibilità di difendere il primo, magari nella terza partita del Girona potrebbe vedersi, anche perché lui in quell'ottica di avere due esterni più offensivi, di cui parlava poco fa Simone, è comunque una scelta un po' più conservativa rispetto a Del Sharawi, perché comunque il suo lavoro in fase difensiva lo fa, cosa che il Sharawi ha fatto alla Roma, ma che comunque non gli si può chiedere più di tanto. Ottima prova degli azzurri, lo abbiamo detto ieri contro il Belgio, chiaramente però c'è anche il calcio mercato che tiene banco in questi mesi e allora andiamo in redazione da Marco Conterio che ci dice le ultime sugli azzurri per quel che riguarda proprio il mercato con nuove offerte o nuovi interessamenti sui giocatori attualmente in rosa di Antonio Conte. Vai Marco! Ciao Lorenzo, ciao ragazzi, gli italiani ovviamente giocano in campo in Francia ma c'è spazio anche per il mercato, ovvero quello di cui parliamo costantemente qua su tuttomercatoweb.com Partiamo dall'attacco da Graziano Pellè che è cercato dall'Everton perché l'Everton potrebbe perdere Romero Lucaco, anzi perderà Romero Lucaco in estate, segue Graziano Pellè dal Southampton in Italia non ci sono grandissimi sondaggi per il centroavanti dell'Italia, tanti invece sondaggi interessamenti per Emanuele Giaccherini, giocatore che è rientrato anche lui in Inghilterra al Sanderland, reduce dal prestito al Bologna, la gente è aperta al possibile trasferimento alla Fiorentina ma c'è il Torino, ci sono tante altre squadre, Bologna anche altrettanto lo rivorrebbe con sé. Mattia De Sciglio adesso l'esterno che al Milan potrebbe restare, oggi la gente è intervenuta anche a TNV Radio, ha parlato di una possibile permanenza ma attenzione perché Massimiliano Allegri lo vorrebbe, anzi rivorrebbe, se vogliamo dire così, con sé alla Juventus. Insomma tanto mercato anche per i giocatori dell'Italia, non ultimo anche Antonio Candreva vero e proprio gioiello di casa Lazio, alta la richiesta di Claudio Lotito ma è il primo grande obiettivo insieme a Yaglia Tourè di casa Inter. Queste ovviamente sono un assaggio nel corso dell'Europeo con le prestazioni dei giocatori il valore aumenterà e anche le notizie che noi vi riporteremo a voi. Nella prima gara del Girone, lo abbiamo detto in precedenza, Irlanda e Svezia hanno pareggiato 1-1 e anche grazie a questo risultato l'Italia è adesso prima nel Girone. Massimiliano, che partita è stata quella tra Irlanda e Svezia? Brutta, a me non è piaciuta proprio per niente. È stata brutta a livello tattico, a livello tecnico, naturalmente buona a livello atletico perché se manca anche quello diciamo che queste due squadre non sarebbero arrivate nemmeno agli europei. Mi ha stupito Ulahan, che è un calciatore che in Premier League conoscono bene, anche se quest'anno purtroppo ha retrocesso col Norwich, ha fatto il primo gol per l'Irlanda, veramente un gran destro a girare sul secondo palo, la Svezia pochissimo, poca cosa, anche Ibrahimovic ben controllato, Karsberg veramente male sulla sinistra, difesa meglio nella ripresa ma una prova tatticamente e tecnicamente veramente di basso livello. Ecco, proprio parlando di Zlatan Ibrahimovic, insomma ci si aspettava tanto, era lui la star tra i 22, ha deluso Ibrahimovic? Sì, Ibrahimovic ha deluso le aspettative, anche se ovviamente il gol del pareggio è arrivato su una sua azione personale, con questo cross al centro deviato in maniera abbastanza fortuita da Clark che però ha provato a fare anche doppietta di Autoreti, quindi ci teneva particolarmente a fare gol nella propria porta ieri. Per quanto riguarda Ibrahimovic è l'unico giocatore di alto livello della Svezia, è l'unico da tenere sott'occhio, onestamente la Svezia mi ha colpito in senso negativo perché è una squadra abbastanza in là con gli anni, abbastanza statica, Ibrahimovic può essere determinante soprattutto se ha giocatori che li corrono a fianco, che lui può servire. Ieri nella Svezia onestamente non ho visto niente di tutto questo, il CT è lì da qualche anno nonostante parecchi risultati negativi, la Svezia sinceramente in ottica Italia mi preoccupa un po' meno dell'Irlanda che a livello di intensità può mettere più in difficoltà la truppa azzurra. Sei d'accordo? Chi ti preoccupa di più tra le due nazionali? Allora io temo soprattutto i cambi perché Iemark e Ekdal ieri non hanno giocato, Ekdal è entrata nella ripresa, Iemark per niente. Siccome sono due calciatori che comunque in Italia conosciamo bene e sono dinamici, che è proprio quello che mancava ieri alla squadra come diceva Ivan, io credo che questi due inserimenti eventuali da parte del CT possono causare qualche problema, magari con Ibrahimovic che spizza qualche pallone e loro che si inseriscono senza palla, speriamo di non vederli. Ecco Ivan, ieri guardavo i probabili accoppiamenti dell'Italia agli ottavi di finale, allora se l'Italia passerà prima nel girone affronterà la seconda del girone che comprende Spagna e Croazia, mentre se l'Italia dovesse passare seconda incontrerebbe la prima del girone del Portogallo e dell'Austria. Ecco, secondo te Antonio Conte potrebbe fare dei calcoli anche in questo senso? Perché insomma, forse meglio passare secondi che non primi. Secondo me è abbastanza complicato fare calcoli in questo europeo perché comunque stiamo parlando di due gironi molto aperti, ovviamente io starei attento all'Austria che può regalare qualche sorpresa perché il Portogallo non mi sembra francamente una grandissima squadra. ha Cristiano Ronaldo, ha ottimi giocatori a centrocampo, però spesso delude in queste competizioni. L'Austria può essere una delle sorprese dell'europeo, fare i calcoli io lo escludo, secondo me Conte punta ad arrivare primo e poi comunque il primo posto. Anche magari per la fiducia. Sì esatto, hai fatto al massimo il tuo dovere e arrivi comunque da favorito allo scontro, secondo me è abbastanza difficile pensare di poter fare calcoli da questo punto di vista. Siamo arrivati alla conclusione di questa nostra edizione del TMV News, ringrazio Simone Lorini e Ivan Cardia e buon proseguimento di serata a tutti. Grazie a tutti.